Buona sera e buon Natale a tutti Sì, io sono Gaetano e mi chiamano Tik Tok Come, come, amico mio, spiega meglio a chi ci ascolta Ti chiami Gaetano o Tik Tok? Oh, ciao bimino, fermato, hai ragione, non mi sono ben spiegato Mi chiamo Tik Tok, ma sono Gaetano e mi Gaeta Oh, voi non conoscevano il passato, Gaetano Ma hai sentito questo nome? Fu l'amorevole dottorice di Enea E me